Questa è la narrazione documentaria delle avventure post-mortem del più bello degli italiani. Personaggi principali? Io. Interpreti principali? Io. Altri interpreti? Basta. Io non so come io sia morto, ma ero da accoppare subito, in malo modo, senza processo, senza teatralità, senza frasi storiche. Perché? Disse di me, se io fossi lui. Disse di me Luigi Longo, comunista. Sandro Bertini, socialista, aggiunse, Mussolini, merita ad essere ammazzato come un cane tignoso. Morto. Viva l'Italia! Saluto al Duce. Io non lo so come io sia morto. Tre o quattro partigiani. Questi o quelli colpi che mi colpiscono qui, 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 o qui, o qui, o qui. Non lo so. Viva l'Italia! È una mano italiana, probabilmente comunista. Quella che ha spezzato la mia santa opera rigeneratrice è potente. Ma io sono con voi. Il Duce è con noi. Venite, venite, venite a trovarmi. Grazie. 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 Grazie.